ciao oggi vi porto a fare una carrellata di genova di notte esattamente il 31 dicembre del 2021 ho fatto un giro con la macchina per genova e fatto un po di fotografie che ve le ho messe insieme in questa puntata quindi genova by night e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Ciao. Ah, ricordatevi i like, ricordatevi le condivisioni, vi ricordo di iscrivervi ai miei canali e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.